Buonasera e benvenuti a Polis, buonasera da Gianfranco Vultaggio. Il solito appuntamento delle ore 19, è un'apertissima campagna elettorale, questa sera continuiamo ancora con l'ADC e lo facciamo con una graditissima ospite che è Anna Tranchida. Buonasera, buonasera a tutti, partiamo subito, ieri sera abbiamo avuto il video cancitano dell'ADC, questa sera abbiamo un continuo, se così possiamo dire. Dunque, Anna Tranchida, psicologa e psicoterapeuta, ma è anche la prima esperienza, la prima candidatura possiamo dire, come si sta vivendo questa esperienza? Allora, devo dire che sto vivendo questa esperienza con grande energia, la ringrazio per questa bella domanda, proprio perché è il corridoio che mi ha fatto entrare in candidatura, perché io ho sposato immediatamente il programma della nostra candidata sindaca, tant'è che è stata richiesta la mia presenza come tecnico della sindaca e ho aiutato tutta la coalizione in modo generoso e anche in modo simpatico, devo dire che ci sono stati degli scambi anche reciproci molto importanti e pian piano quindi sono entrata a passo lento all'interno del programma sempre di più, fino a quando più volte è stata richiesta la mia candidatura e alla fine dopo aver terminato dei progetti importanti che stavo portando avanti, ho deciso di dedicarmi anche a questo per rafforzare ancora di più l'impegno della nostra candidata sindaca. Era un'idea che circolava già nella mente oppure è stata colta così di sorpresa questa cosa? È stata colta di sorpresa, è stata colta di sorpresa perché la mia famiglia materna è sempre stata una famiglia politica, però io non sono mai entrata diciamo nel tema politico e mi sono dedicata a tutt'altro e quindi diciamo che quando si tratta di politica c'è un qualche cosa che circola nella mia mente, però da lì a dire che mi sarei candidata in questo momento, soprattutto insomma nella fase più importante e più forte della candidatura, delle candidature e della campagna elettorale, questo devo dirle in voltaggio di no, non era il mio programma. Si può dire che sostanzialmente c'è la voglia di competere con se stessi, ma prima di tutto di competere con se stessi e poi con il resto? Allora, io sono sempre stata una sana competitiva, richiedo molto a me stessa, sono una persona molto precisa e che si occupa di tante cose e quindi io mi metto sempre alla prova, a volte chiedo tanto anche agli altri, però devo dire che poi dopo abbraccio lavoriamo in modo molto importante. Diciamo che più che una competizione in questo momento per me è un rafforzamento della squadra, sembra strano dirlo, però io credo molto nello spirito di squadra, questa è una bellissima coalizione, una coalizione mista che però nello stesso tempo porta ad un unico obiettivo che è quello insomma di portare un'innovazione alla città di Mazzara e di portare il bellissimo pensiero di questa donna molto intelligente che mi ha colpito anche perché mi sono riconosciuta nelle sue idee, nel suo modo di essere, nel suo modo insomma di portare avanti la politica e le idee della città. Comunque l'ingresso in politica non è stato dei peggiori tenendo conto che la candidatura va in quella lista della DC che in città torna forte e potente con le idee diciamo molto chiare, una lista piena di contenuti e di valori, qual è il fine? Allora, la DC si è insediata in città non da tantissimo, è una lista molto forte quella della DC anche creata insomma da persone competenti, persone che hanno voglia di portare il cambiamento, quindi lo spirito anche qui è uno spirito di squadra, si legge proprio all'interno insomma della DC, vengono portate le idee, vengono portati i progetti, viene portata la voglia di fare, insomma una DC che si è fermata per un po' di tempo e che è rimasta in ombra per un po' di tempo e che ad un certo punto adesso rinnovata vuole portare proprio le nuove le nuove idee che si rapportano anche a quelle di una prima DC che era una prima DC importante che ha portato dei cambiamenti molto importanti in Italia nel periodo insomma della guerra e del dopoguerra, no? Si sa bene, c'era uno spirito. La DC della Repubblica. Sì, quella è la DC diciamo che descrive la mia famiglia che sono stati tra i fondatori insomma della DC di quel tempo e dove era molto bello vivere questi momenti perché vi era uno spirito di avventura molto importante, sapete bene di che cosa stiamo parlando e dei valori che si portavano in un momento drammatico che era quello della seconda guerra mondiale. Se andiamo per un attimo a fare una disamina anche di carattere psicologico, perché in campagna elettorale ci si dimentica dei problemi e invece ci si proietta sempre sui progetti e sul futuro, è uno stimolo? Allora, il futuro e i progetti devono essere dentro di noi, però il futuro e i progetti si devono anche basare su una concretezza che sono anche i problemi come lei stesso dice. Non possiamo non guardarli, non possiamo profinta che non esistono perché se ci sono dei problemi non è che debbano essere per forza una critica A, ma possono essere dei punti di partenza da sviscerare, dei punti di partenza su cui partire per poter creare qualche cosa che può essere ancora migliore e ancora più utile all'interno della nostra città e quindi della società. Sì, ma il motivo per cui ci dimentichiamo dei problemi qual è? Cioè, perché in campagna elettorale se ci facciamo caso nessuno dice abbiamo questo problema, cercheremo di risolverlo in questo modo? No, si pensa solo faremo questo, vi proponiamo questo, abbiamo intenzione di fare questo. Perché si sente l'esigenza di in un certo qual modo far finta di dimenticare ciò che è stato fino a ieri mattina? Allora, io, voltaggio, potrebbe essere una necessità, io posso risponderle per me. Quando io ho fatto l'intervento alla presentazione della candidata a Rivoli, io ho detto quando interviene lo psicologo arrivano i problemi, quindi io ho parlato dei problemi, ho parlato di quelli che erano i problemi della città dal mio punto di vista che facevano parte anche poi dopo di concetti che erano stati sviscerati all'interno del nostro ampio programma, no? E i problemi devono essere visti assolutamente, se ne deve parlare, io sono qui anche per parlare di quelli che io vedo come problemi della città. Dal mio punto di vista, per esempio, i vari sindaci passati non è che hanno del tutto sbagliato, cioè hanno portato quelle che erano le loro idee con il loro modo di essere. Dal mio punto di vista c'è stata un po' di immaturità per alcuni aspetti, io venendo da fuori e non essendo totalmente mazzarese, anche se ho delle radici mazzarese. E, per esempio, io vedo che da milanese c'è un'organizzazione un po' borderline, cioè nel senso che si fanno tante cose, ma una qui, una lì, una lì, in realtà manca un trade union, ecco, e in questo secondo me bisognerebbe cominciare a guardare questo trade union, è bello se c'è, viene fatta la pista ciclabile, economica. Stai parlando di un'idea di improvvisazione? Come? Un'idea di improvvisazione? In che senso? Nel senso uno qui, uno là, uno là, senza trade union significa... Eh, trade union, ti faccio un esempio pratico, che può essere uno dei tanti, quindi non l'unica. Allora, per esempio, viene fatta un bellissimo progetto che può essere quello della piscina, un bel progetto che può essere quello della pista ciclabile, anche se magari io l'avrei fatto in un modo diverso, altri bei progetti, ma poi dopo come ci si sposta da un posto all'altro? Cioè, nel senso, sono messi uno lì, uno là, però, per esempio, questi ragazzi, per poter raggiungere queste mete, non hanno un autobus, non hanno un mezzo pubblico, gli anziani non hanno un mezzo pubblico per potersi muovere, e sembra una stupidata, ma un anziano che non ha il tiro e quello... Che poi sarebbero, tra l'altro, i servizi di base. I servizi di base. Allora, per esempio, la pista ciclabile, io ho vissuto in diverse città d'Italia, e tra queste anche delle città della Romagna, che sono piccoline ma organizzatissime, lo sai bene, è vero voltaggio. Ok, lì le piste ciclabili e le biciclette si sono sempre usate da tantissimi anni. Allora, questo va bene, ma ci devono essere prima dei mezzi, perché se facciamo una pista ciclabile e poi dopo non ci sono i mezzi pubblici organizzati e quindi si crea un ingolfo del traffico, insomma, è come un pochettino magari decidere di spolverare e poi dopo di passare l'aspirapolvere per terra. Magari ci vuole un po' un ordine nelle cose. È vero che a volte magari alcuni progetti capitano, però è anche vero che, non lo so, io se mi fornissero per esempio anche un bonus per prendermi un elefante e metterlo dentro casa, per quanto io possa ricevere un bonus, però poi dopo un elefante dentro casa non è detto che ci sia. Diventa ingombrante, quantomeno. È parlato di attività, di contesti dove le situazioni, le circostanze si identificano in un trend union. I consensi a tutti i costi. È possibile che questo fare una cosa qui, una cosa là, sia una costante, continua e frenetica richiesta di consenso che vada anche al di là del valore del consenso stesso, cioè nel senso che questa ricerca del consenso ti fa perdere la bussola. È possibile? È possibile. Cioè è una di quelle circostanze, perché il consenso alla fine cerca, a volte nel nome del consenso si mette da parte anche la libertà, quindi in un certo qual modo diventa poi problematica come situazione. Se uno va sempre alla ricerca del consenso, in questo caso chiaramente stiamo parlando della campagna elettorale, poi si possono perdere di vista quelli che sono gli obiettivi reali per un contesto sociale cittadino, quale quello per esempio di Monzaia del Vallo. Sì, io sono d'accordo con questo pensiero, nel senso che io parto dal presupposto che io sono sempre stata scelta per le qualità della mia professione e quindi io porto avanti quella e do la possibilità alla persona di scegliermi o di non scegliermi. Fortunatamente ho fatto delle belle cose, però è anche vero che non si può pensare al consenso soltanto senza fornire un motivo per ricevere questo consenso, ok? Se io ad un certo punto organizzo determinate cose soltanto ai fini del consenso, allora c'è una manipolazione dal mio punto di vista, ok? Se io ad un certo punto invece faccio e poi dopo la persona è contenta e allora mi dà il suo consenso, allora io questa cosa la vedo più pulita, ok? Quindi è una questione di rapporto e di sincerità. Io ho sempre lavorato in modo sincero e ho sempre creato delle relazioni sincere. A proposito di sincerità, di relazioni sincere, in campagna elettorale facilmente si riscontrano situazioni, non dico incresciose, ma sicuramente discutibili, quali per esempio sgambetti, mezze frasi dette e non dette, accuse velate, una campagna elettorale che ha visto fino a questo momento anche qualche scontro amaro, anche sacerbato. Dicono che questo sia un gioco della politica, lo condivide? Allora è un gioco della politica ma è anche un gioco dell'uomo, cioè la politica è fatta da uomini, uomini inteso uomini e donne, no? E quindi ovviamente questo caratterizza poi gli individui che mettono in atto determinate dinamiche. Io sono una persona che ha sempre giocato pulito, ha sempre messo in prima persona il proprio viso, motivo per cui scendo in campo anche se nel momento diciamo più intenso della campagna elettorale. Quindi sposo le mie idee, sposo le idee delle persone in cui credo e quindi decido di metterci la faccia. Non sono d'accordo sulle critiche eccessive, io credo che bisogna lavorare sulla propria persona e quindi sul proprio lavoro. Magari anche sui propri progetti. Sui propri progetti, sulle proprie idee ed è motivo per cui una persona deve essere scelta. Io non amo essere scelta perché critico l'altro, assolutamente no. È possibile che le costanti critiche possono anche ritorcersi contro con l'effetto boomerang? È possibile perché comunque le critiche si sa bene che possono danneggiare e infatti ci sono delle leggi che tutelano per fortuna anche queste critiche. Però è anche vero che dobbiamo ricordare una cosa, che la critica descrive la persona che la emette. Non è detto che descriva necessariamente la persona che la riceve. Quindi è una questione di lettura praticamente. È una questione di lettura e di modalità con cui la persona che emette la critica vede il mondo. Io posso dire anche una cosa spiacevole. Di solito diciamo che non amo dire cose troppo spiacevoli, però è il mio punto di vista. non necessariamente poi lo può descriverlo. Certo, non necessariamente può essere condiviso. Sì. Corretto. Uno dei slogan che sentiamo, l'abbiamo letto anche nella nella reclam pubblicitaria di Vota Anna Maria Tranchida. Datemi un desiderio e ne farò un progetto. Da dove viene questa frase? Allora, viene dal fatto che di solito io sono un topo da lavoro. Lavoro ad orari incredibili. Tante volte lavoro anche di notte e anche in questo momento nelle ore notturne sto lavorando. E io di solito sono una grande sognatrice e amo realizzare i sogni degli altri. Non a caso ho scelto anche un lavoro che mi permette insomma di migliorare le condizioni degli altri. Quindi sono una persona generosa e sono descritta in questo modo. Quindi io sono una grande progettista, cioè nel senso che amo mettere ordine, amo mettere concretezza, amo rendere realizzabili le cose che possono essere realizzabili. E quindi se questa cosa non posso farla prescindendo da quello che possono essere i desideri degli altri. In questo caso i desideri dei cittadini. Quindi io voglio lavorare in collaborazione con gli altri. Ho sempre creato dei team, ho sempre portato avanti dei team, ho lavorato anche singolarmente e quindi il mio lavoro se mai mi sarà permesso di farlo sarà assolutamente iniziando dall'ascolto comunque dei cittadini. Ma se per un attimo ci fermiamo e mettiamo da parte lo slogan che è comunque rappresentativo, il suo desiderio quale sarebbe? Perché abbiamo parlato dei desideri degli altri e cerchiamo di scoprire qual è invece il suo. Il mio desiderio? Guarda glielo dico ridendo, Vultaggio, perché è una battuta che dico da un sacco di tempo. Io dico sempre che volevo fare la casalinga e non ci sono mai riuscita, quindi... Quindi volevi fare la casalinga? No, il mio desiderio a parte gli scherzi è quello di migliorare sempre quello che ho intorno. Io per il tempo che mi fermerò nel luogo in cui sto voglio cercare di dare il meglio. E questa per me è una cosa molto importante perché credo che la... Scusate... Non preoccuparti. La città e le cose che ci sono intorno a noi le possiamo migliorare e ognuno con il nostro piccolo possiamo fare qualche cosa. Quindi il desiderio personale sarebbe quello di contribuire alla crescita della città? Assolutamente sì. Ma la candidata Vita Ippolito parla di democrazia partecipativa. Come si vive questa esperienza? Benissimo. Benissimo perché comunque la candidata Ippolito ha creato una coalizione che seppur è formata da persone differenti e quindi anche con idee differenti è una coalizione molto forte che ha permesso a tutti quanti di poter esprimere la propria. Creando proprio dei tavoli tecnici abbiamo creato dei salotti insieme che sono quelli del mercoledì che sono frequentati poi dopo da diversi candidati, dai cittadini e questo ha permesso comunque di sviluppare un programma dei progetti e delle idee che vengono ascoltate perché è una donna che ascolta. Quindi sostanzialmente questa democrazia partecipativa porta a quello che si può definire nel piccolo a un confronto di idee? A un confronto di idee e ad una relazione tra tutti, tra noi come team diciamo e poi dopo tra noi e i cittadini. Quindi è una sorta di preambulatorio per poi divenire il progetto fattivo a tutti gli effetti. Sì, dobbiamo partire da un ordine e questo ordine è quello che c'era, quello che c'è in questo momento e quello che ci sarà. Quello che ci sarà. E quindi? Allora, entriamo un po' nel programma della candidata sindaca. Festival Jets è promozione degli eventi annuali di quartiere. Sono due eventi che innanzitutto prendono il cittadino, i cittadini in genere, perché rappresentano due novità. Anche se a te lo del vero bisogna dire che manifestazioni Jets negli anni passati ci sono state. Ma un festival Jets no, è qualcosa di diverso, ne avevo parlato anche con la candidata Vita Eppolito che parlava di qualcosa di internazionale. E poi ci sarebbe l'idea, non indifferente, degli eventi annuali di quartiere, perché in questo modo si sa per certo, come si suol dire, che nei vari quartieri ci sarà sempre vitalità e interesse da parte dell'amministrazione. Anche questo è turismo? Assolutamente sì, perché comunque nel programma il turismo non viene visto soltanto come stagionale, ma viene visto come la possibilità di poter creare un turismo continuo, continuativo durante l'anno, che quindi può attirare il pubblico ovviamente per idee diverse, quindi con progetti diversi, con presentazioni diverse della nostra Mazzara che ha tante caratteristiche, ha tante sfumature, tante sfaccettature, quindi queste devono essere valorizzate, perché è bello viverla d'estate, però ci sono anche tante cose belle che possono essere vissute d'inverno o in altri momenti comunque della stagione. E questo per me è molto importante, perché così si crea vita all'interno della città. Certo che per favorire il turismo dobbiamo favorire anche delle comodità per il turista, perché io vi assicuro che venendo da fuori Mazzara è una bella città, ma è una città scomoda per il turista. Ti riferisci alle ricezioni? Eh? O sempre ai servizi? Le ricezioni o ai servizi? No, le ricezioni insomma, diciamo che le persone sono molto gentili e ci sono delle strutture che al momento sono sufficienti, che sicuramente non saranno sufficienti se il turismo aumenterà e allora a quel punto, ma ben venga, ben venga. E' un problema di servizi. Ecco, ma è un problema di servizi perché ovviamente io ho incontrato dei turisti che incontrandomi mi hanno detto, ma mi scusi adesso io come faccio ad andare lì? Cosa fai? Lo porti in macchina e lo accompagni, perché poi dopo effettivamente non c'è. Mancano per esempio, dal mio punto di vista, io parlo da milanese che sono un po' comoda in queste cose, ma non posso entrare per esempio in un parcheggio e dover scendere sotto la pioggia per mettere la monetina oppure per fare la tesserina così. Ci sono delle app comodissime che si possono utilizzare, si paga il parcheggio e via dicendo. Cioè queste sembrano delle piccolette, ma per la persona che vive qua magari a volte non ci pensa perché non ci è abituata, ma la persona che viene da fuori sono delle cose che sono talmente normale che non ritrovarle vuol dire avere una scomodità. E siccome io all'interno di questo programma mi occupo della parte benessere, quindi della parte benessere sia dei cittadini e sia delle persone che verranno da fuori, allora a quel punto dobbiamo avere delle idee, portare avanti delle idee che creano delle comodità assolutamente nella città. Prepo di che il turismo sia la soluzione anche come polmone economico per la città? Assolutamente. Il turismo è lo sviluppo di questa città, ha le potenzialità questa città per diventare un polmone turistico e non riesco a capire come mai in tutti questi anni questo sviluppo non sia avvenuto, perché di alcune cose si parlava già 15 anni fa, non soltanto adesso. Prima era una città che era più dedicata alla pesca, quindi era una città di pescatori, ha avuto comunque insomma il suo successo perché era una cittadina ricca, poi diminuendo il settore della pesca e quindi l'introito di questo indotto, ad un certo punto si sono visti dei drammi, cioè nel senso chiusure di negozi, cittadini che ovviamente erano costretti ad andare via. La città è andata in recessione e noi dobbiamo invece lavorare per risviluppare questa parte, queste idee devono arrivare anche con delle idee che noi vediamo anche fuori e che possiamo portare qua senza però sradicare quella che è la caratteristica del territorio mazzarese che è tanto bello. Ma non dobbiamo dimenticare che ci vuole bravura anche a copiare però. Come? Ci vuole anche bravura anche a copiare, dico prendere le cose che fanno via. Assolutamente, e poi rispettando anche le caratteristiche del territorio perché sennò creiamo un qualche cosa che poi stona, no? Invece noi dobbiamo mantenere la nostra mazzara però rendendola attuale perché in questo momento secondo me è un po' una mazzara che non vorrei dire degli anni 60-70 ma secondo me come modernità siamo lì in servizi. Si è in servizi, poi non mi permetto di dire altro sulle persone che sono stupende. Per quanto riguarda i servizi questo è stato un problema che la città di Mazzara ha sempre avuto anche negli anni passati, non si è mai affrontato nel modo dovuto però tengo a precisare un particolare che anche chi ha messo buona volontà nel tentativo di risolvere queste tematiche non ha avuto vita facile perché in città noi abbiamo delle strade che sono state concepite nel 1900 ragion per cui se togli i posteggi non sappiamo come fa se metti il pulmino, il pullman da dove prendi? Le strade sono piccole e quando scende a lungomare e poi abbiamo visto che con i pullman quando scendono a lungomare la pista è ciclabile e non possono girare insomma ci sono delle problematiche legate alla viabilità chiaramente in questo momento che sto parlando di questo che incidono non poco sulle decisioni dei nostri amministratori i quali purtroppo debbono tenere conto anche delle dimensioni delle strade non è un aspetto di poco conto. Sì, è un aspetto che devono assolutamente risolvere gli ingegneri e gli addetti ai servizi che si occupano di questo solo un po' si può risolvere, buttando le case a terra e allargando la strada non dobbiamo andare per esempio a toccare per forza il centro però ragazzi non è possibile che noi abbiamo delle scuole che sono dislocate rispetto al centro e queste scuole sono servite da mezzi pubblici che vanno lì soltanto in alcune ore se un povero ragazzo si trova a dover andare a scuola in un altro orario non ha come andare cioè la cultura e il fatto che i ragazzi debbano ad un certo punto frequentare con comodità le scuole è una cosa essenziale perché la cultura è importante cioè i genitori spendono dei gran soldi per far studiare i ragazzi e quindi la città deve favorire questo, non può sfavorire. Senti un po', tutti vogliono intervenire al supporto dell'ospedale la domanda è, nei quattro anni che si è trasferita qui a Mazzara l'ospedale noi l'abbiamo sempre letta come una preoccupazione la lettura è anche la stessa per quanto lo riguarda. Allora, i servizi sanitari fanno parte del benessere della città cioè un cittadino per stare comodo e stare bene all'interno della propria città deve sapere di essere tutelato da questi servizi se io so che ad un certo punto sto male improvvisamente e per una serie di anni emotivi non è organizzato l'ospedale per poter accogliere il mio malessere io sono preoccupata, non vivo bene qui e quindi l'ospedale è uno dei punti cardini e fondamentali che devono essere risolti e devono essere portati avanti per quelle che sono le caratteristiche e le potenzialità di questo ospedale cioè non possiamo pensare che questo ospedale diventerà magari il policlinico per esempio però ha delle buone caratteristiche per poter fornire un ottimo servizio vanno rafforzati ovviamente i medici vanno rafforzati, va rafforzata tutta la struttura vanno rafforzate tutte le forze che intorno possono permettere ad un ospedale di questo tipo di funzionare bene è molto bello, non riesco a capire perché se no trasformiamolo in una grande biblioteca non sarebbe un problema di disponibilità di dottori e di personale infermieristico che è una carenza che c'è su tutta la nazione non soltanto sulla regione Sicilia però l'ADC e la lista dell'ADC a Mazzara del Vallo l'ha sposato come argomento principale quello di tutelare, salvaguardare, potenziare, migliorare le condizioni dell'ospedale alla fine i cittadini chiedono soltanto personale qualificato e attrezzature diciamo all'avanguardia non c'è nulla di strano assolutamente non c'è nulla di strano il cittadino ovviamente chiede per quello che sono le proprie esigenze e l'esigenza è quella di sentirsi curato e di andare in un luogo che lo può accogliere è chiaro che poi dopo l'ADC come chi si occuperà insomma di questo e sapete che l'ADC comunque potenzialmente si è portata avanti in questo dovrà fornire tutta l'organizzazione necessaria a muoversi in un certo modo un conto è muoversi gli esperti e un conto sono i desideri della città che naturalmente vanno ascoltati e vanno valutati quelli che è possibile aderare e quelli che no siamo in chiusura di trasmissione è una domanda che pongo perché magari arriva a una lettura diversa se si trovasse a cospetto di gente che non va a votare o che non vuole andare a votare come la si può stimolare per invogliarla a usufruire di quella condizione di quel diritto sancito anche dalla Costituzione? Allora io devo dire che questa qui per me è una domanda molto seria e molto importante perché il cittadino deve andare a votare perché votare vuol dire esprimere la propria opinione esprimere la propria preferenza quando il voto non era così possibile ci sono persone che hanno lottato per questo diritto e io ci credo moltissimo io ci credo veramente tanto perché a volte quando si hanno le possibilità non si pensa a quello che c'è dietro e allo sforzo che c'è stato per ottenerle quindi una volta che abbiamo ottenuto questo noi dobbiamo assolutamente quel giorno alzarci dalla sedia ed andare a votare perché anche se siamo stanchi anche se siamo delusi non è detto che tutte le persone siano tutte uguali non è detto che tutto si ripeta sempre nello stesso modo quello che noi dobbiamo guardare è quello che abbiamo ad andare davanti andare a leggere i programmi andare a conoscere le persone guardare le persone di che cosa si occupano che cosa hanno fatto per la città che cosa non hanno fatto certo che però se magari si pensa di votare per delle persone che poi dopo non hanno le competenze per poter accedere a determinati spazi a determinati posti è chiaro che magari il pensiero può essere deludente è frutto ogni dubbio che se conosci le persone quindi leggi e studi e ti informi su quelle che sono le condizioni della tua città diventa tutto più semplice indirizzarsi su qualcuno che anche se lo ignori non lo conosci o non la conosci in questo caso però sei nella condizione di scegliere al meglio delle tue possibilità perché hai avuto diciamo degli elementi che ti hanno aiutato a percepire una conoscenza o una specifica conoscenza che magari ti prende però è anche vero che le delusioni politicamente parlando nel tempo hanno creato il partito di coloro che non vanno a votare che è il primo partito d'Italia non di Manzana del Vallo e questo partito deve essere smantellato soprattutto questa è una responsabilità nostra e delle persone che entrano in politica perché se la gente è delusa è colpa anche della mala politica e quindi non possiamo dare la colpa soltanto alle persone quindi noi cerchiamo di metterci insomma il nostro impegno e io entro in campo per questo entro in campo seriamente e entro in campo cercando di portare quello che sono in grado di fare quello che non sono in grado di fare lo faranno i tecnici che ci sono intorno a noi l'ultima e chiudiamo credi in un ballottaggio o credi che si vada direttamente come si suol dire a prima botta già col nuovo sindaco prima botta prima botta direttamente assolutamente sì va bene allora ci siamo fatti una bella ghiacchierata con Anna Maria Tranchida vi ricordo candidata nella lista della DC abbiamo avuto modo di conoscerla di sentirla parlare sicuramente ci siamo fatti un'idea migliore nel senso che non la conoscevamo e adesso invece possiamo dire qualcosina relativamente a quello che abbiamo sentito direttamente dalla sua bocca vi ringrazio per essere stata con noi grazie principalmente per gli amici a casa che hanno avuto possibilità di conoscerti di sentirti io come sempre vi ringrazio a voi tutti e vi rinnovo l'appuntamento a domani sera alle 19 ciao 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 ciao